Ciao, allora questa è l'antina della settimana scorsa, la lavorazione che ti ho fatto vedere per la sua creazione l'ho volutamente lasciata senza incollare perché come ti avevo detto nell'altro video dovrebbe apparire un link qui da queste parti ti avevo detto che prima di incollare gli avrei fatto una successiva lavorazione di conseguenza ti avrei mostrato cosa avrei fatto e come l'avrei fatto può capitare che quando si va ad accoppiare traversino con montante passando il dito sopra ci si accorge di un leggero gradino questo nell'ordine dei decimi di millimetro se supera il millimetro c'è stato qualche problema durante la lavorazione della creazione o del tenone o del canale molto più probabile il tenone quindi se questo gradino è lieve come ti ho già detto si può camuffare come? o sulla spalla, sullo spigolo della spalla del tenone, quindi del traversino si fa un leggero scuretto, uno scuretto non è altro che una piccolissima battuta appena accennata oppure si può fare uno smusso a 45 gradi però questo smusso a 45 gradi si lo posso fare sempre anche solo qui ma viene meglio, risulta meglio se fatto su tutta la cornice interna dell'anta ovviamente non c'è bisogno di farlo su tutti e due i lati dell'anta ma basta farlo sulla faccia a vista allora questo smusso io lo farò sul perimetro interno dell'anta questo spigolo, questo spigolo qua, questo spigolo qua e questo spigolo qua e ovviamente anche le teste allora questo tipo di smusso se lo vedi bene io l'ho fatto a mano lo puoi fare benissimo anche al banco fresa con una fresa dedicata appunto con angolo di 45 gradi con i taglienti a un angolo di 45 gradi ma per comodità e anche perché io ho il banco fresa in questo momento impostato per altre lavorazioni ti mostrerò come fare prima dell'incollaggio questo lavoro di appunto smussatura dei profili interni però lo faccio con una semplice pialla a mano mi assicuro di fare il lato esterno il lato interno non mi interessa quindi ho fatto una piccola X sul lato esterno per non confondermi e ora semplicemente con la pialla me la tengo a 45 gradi ovviamente la pialla deve essere non affilata di più deve essere affilatissima poi bisogna fare attenzione alla disposizione della spigolo la venatura questo è frassino è un legno abbastanza complicato da piallare a mano ora è abbastanza omogenea diciamo se io piallassi al contrario sicuramente qui avrei degli strappi perché qui c'è un controvena mi sta già dando uno smusso di 45 gradi che altro non è un bisello ora mi prendo l'altro montante mi assicuro di lavorare sulla faccia esterna controllo la grana la grana anche qui è abbastanza omogenea qui c'è un leggero controvena ma anche qui avrei un controvena se piallassi da quella parte quindi il pialletto lo tengo sempre a circa 45 gradi se in questo pezzo che ho controvena dovessi trovare difficoltà anziché presentare la lama perfettamente dritta rispetto alla fibra quindi che la fibra cade a 90 gradi perpendicolare sulla lama posso inclinare leggermente il pialletto e in questo modo miglioro l'angolo di taglio perfetto non c'è neanche uno strappo e i due montanti sono pronti adesso passo a lavorare i traversini come ti ho detto prima non solo devo andare a smussare il profilo interno ma anche gli spigoli delle spalle del tenone questi qua la stessa cosa ripeto qua ovviamente devi fare attenzione la lama della pialla l'ho affilata fresca prima di fare questo lavoro quindi riesco anche a non far strappare il legno in uscita però perché è meglio fare prima le teste diciamo le spalle del tenone che sarebbero le teste del legno perché poi casomai strappa poi vai ad asportare lo strappo andando a lavorare lungo il profilo interno quindi se qui c'è stato uno strappo lo elimino perché lo asporto allora fatto questo ora posso incollare ovviamente pannello levigato prima di essere incollato ogni singolo pezzo levigato prima di essere incollato questo è un pannello di multistrato quindi non ritira di conseguenza non è obbligatorio se devi dargli un colore colorarlo prima prima dell'incollaggio allora mi metto un po' di colla sui tenoni colla deve essere abbondante abbondante ma non troppa comunque perfetto quindi questo va qui così posso anche iniziare a mettere devo decidere quale verso mettere del pannello uguale posso iniziare a mettere il pannello così l'altro traverso faccio attenzione sempre al verso così perfetto adesso mi metto la colla su questi tenoni e posso andare a mettere questo qua in posizione così è così adesso mi serve subito una spugnetta allora è molto importante che vengano rimossi subito gli eccessi di colla soprattutto dall'interno della dall'interno del canalino dello smusso altrimenti questo rimane pieno di colla e diciamo non ha senso averlo fatto metto tutto tra i morsetti bastano due morsetti in direzione dei delle estremità dell'antina dove ci sono i tenoni dove ci sono gli incastri allora nel frattempo che la colla asciuga io mi porto avanti il lavoro e poi ne riparliamo perfetto sono passate ore direi che tempo per asciugare ne ha avuto allora ora posso dare una levigata veloce da una parte e dall'altra va bene con questo concluso io spero ti sia piaciuto il video tu l'abbia trovato interessante e soprattutto che tu abbia capito i vari procedimenti per ottenere questo tipo di antina antina con perimetro fatto di frassino massello e il pannello invece è il pannello normale di pioppo ma pellicciato frassino inoltre ti ricordo che se ti va in descrizione di questo video trovi il link per poter supportare il canale o più semplicemente offrirmi un caffè va bene con questo è tutto io ti saluto che mi devo rimettere a lavorare stammi bene ciao ciao